Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova guida all'acquisto vedremo di capire insieme quale tende da trekking di ferrino è meglio per voi. Nel particolare abbiamo qua le tende da trekking di ferrino ultra light, quelle più leggere e più vivibili. Nel particolare in bianco la ferrino GRIT 2, questa qua blu la ferrino RIFT 2 e questa qua color verde scuro la ferrino TAR 2. Adesso insieme vedremo di capire un po' le caratteristiche di queste tende ma soprattutto quale è meglio per voi, quale vi consiglio più di acquistare. La prima tenda di cui parliamo ma solo per anzianità perché è quella uscita due anni fa mentre le altre sono uscite quest'anno 2023 è la ferrino GRIT 2. Ovvero una tenda che pesa 1,7 kg, una tenda, inizio a darvi già due informazioni, non autoportante e a singolo telo. Cosa vuol dire? A singolo telo vuol dire che all'interno non abbiamo una separazione tra la camera interna e la camera esterna. Vuol dire che in diversi tratti il telo esterno e il telo interno coincidono. Questo porta normalmente una monotelo ad avere un pochino più di condensa rispetto alle doppio tele che vedremo dopo. Non autoportante vuol dire che questa tenda per essere utilizzata va obbligatoriamente picchettata. Se non la picchettiamo non riusciremo ad utilizzarla. E qua già attorniamo diciamo un grosso bacino perché questa tenda naturalmente non è utilizzabile dove non riusciamo ad apicchettarla. Esempio su superfici duri come possono essere le rocce di alta montagna. Come dicevamo è una tenda che pesa 1,7 kg quindi una tenda abbastanza leggera, due persone, ma soprattutto in due persone dentro ci si sta molto comodi. Non è una tenda stretta. Dentro c'è tanto spazio, in due davvero con due materassini ci si sta tranquillamente. Abbiamo inoltre anche due absidi nella parte esterna, due porte dove poter andare a immagazzinare gli zaini, i nostri scarponi. Se dobbiamo cucinare anche c'è un po' di spazio negli absidi. Quindi una tenda comunque molto evisibile, una tenda che potreste anche piantare giù e pensare magari di passarci dentro anche qualche giorno. Per quanto riguarda il montaggio, questa grit forse è quella un pochino più difficile al montare delle tre. Il motivo è che abbiamo un palo trasversale che corre da sinistra a destra e che dovremo applicare a una certa pressione per riuscire a farlo torcere e a fargli fare questa semi-curve, a fargli fare questa semi-luna. Naturalmente ci vuole un po' di esperienza, ma dopo vedrete che pian piano prendendoci la mano non diventerà più così tanto difficile. Vi assicuro però che le prime volte può essere un postico. Ma dove ha più senso utilizzare questa Ferrino Grit 2? Allora, come vi dicevo escluderei tutta la parte di alta montagna, tutte quelle parti dove non riusciamo a picchettarla, molto semplicemente. È una tenda, secondo me, da utilizzare anche per dei viaggi, per dei trekking lunghi, per dei cammini. Dato che è la tenda più leggera che vediamo adesso, per cui può andare bene per questo scopo, davvero questa è perfetta per fare dei cammini a media quota, perché comunque dentro è molto areata. È una tenda un po', diciamo, tutto fare quando parliamo dai 2.000-2.300 metri di quota in giù. La seconda tenda di cui parliamo è la Ferrino Rift 2, uscita in questo 2023. Parliamo di una tenda autoportante, doppio telo, soprattutto una tenda molto spaziosa. Autoportante vuol dire che questa possiamo montarla anche senza doverla picchettare. Banalmente questa potreste montarla anche dentro casa, perché non ha bisogno dei picchetti per essere montata. Doppio telo vuol dire che abbiamo due singoli teli, uno nella parte interna fatto a zanzariera, di solito, e una parte esterna che invece pensa a renderla impermeabile. E già qui abbiamo un grosso bacino d'utenza, ovvero noi possiamo decidere di utilizzare questa tenda senza il telo esterno, nel caso siamo sicuri che non dovesse piovere, e avere una tenda veramente molto areata. Una tenda dove, se andiamo in climi veramente molto molto caldi, non subiremo così tanto caldo come in una tenda, ad esempio, monotelo. È una tenda, questa poi è anche molto spaziosa, all'interno ci si sta veramente comodi. A 10 cm in più sia in larghezza sia in lunghezza rispetto alle tende standard, quando siamo all'interno in due davvero ci si sta molto bene. Questa è un'altra di quelle tende che potremmo pensare anche di piantarla lì e magari utilizzarla un po' anche come campo base, perché veramente abbiamo tanto spazio per stivare i nostri oggetti nelle due absidi esterne. Abbiamo tanto spazio all'interno, anche se dobbiamo cucinare, cambiarci o comunque qualsiasi cosa dovessimo fare, davvero all'interno in due ci si sta molto comodamente. Tenda, come vi dicevo, doppio telo autoportante con grande spazio vuol dire anche un certo peso. Infatti parliamo di una tenda che pesa 2 kg, 2 kg e 1. Una tenda abbastanza pesante rispetto alle altre due, quindi una tenda che vi consiglio in quei casi in cui magari il grammo non vi fa la differenza. Quindi magari dei viaggi, come possono essere anche i viaggi in moto, in viaggi in bici, un pochino meno magari per delle alte vie, perché lì già avere 300 grammi in più su una tenda può far la differenza. Può andare bene anche in quel caso se i 300 grammi non vi interessano, però sì, diciamo che tra le tre è quella più pesante. Infine l'ultima tenda che vediamo è la Ferrino Tar 2, completamente diversa delle altre due che abbiamo visto prima, soprattutto per la struttura. In questo caso troviamo una tenda autoportante doppio telo, quindi stesso ragionamento della tenda che abbiamo visto prima, possiamo montarla anche senza picchettarla e possiamo utilizzarla anche senza il telo esterno per l'impermeabilità. Questa, a differenza della Rift che abbiamo visto prima, è una tenda molto molto stretta. All'interno in due ci si sta, ma si sta molto vicino, è una tenda molto intima. È una tenda davvero dove lo spazio all'interno è molto ristricato, molto ristricato anche nella parte esterna della veranda. Una tenda dove già riporre tanti oggetti è abbastanza difficile, quindi è una tenda pensata molto per il la pianto alla sera, ci dormo dentro, al mattino me ne vado. Non una tenda vivibile. Avendo questo poco spazio interno, Ferrino ha risparmiato sul peso. Infatti parliamo di una tenda che pesa un chilo e 750 grammi. Quindi più o meno come la tenda che abbiamo visto prima, la Grit, però in questo caso è autoportante. Non dimenticatelo. Visto che ne parlavamo, dove ha più senso utilizzare questa TAR2? Come vi dicevo, in tutti quei casi in cui vogliamo innanzitutto avere una tenda comunque anche molto stabile, perché una tenda autoportante è molto stabile rispetto al vento. E soprattutto anche dove non abbiamo bisogno di picchettarla. Ovvero, mettiamola così, se volete utilizzarla per fare delle alte vie, la Grit va bene dai 2.300 in giù di quota. La TAR può andar bene dai 2.300 in su. Quindi anche se dovessimo trovare delle superfici dure, come può essere la roccia, e dove passiamo magari c'è poco prato dove poterla montare. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste tre tende Ferrino. Innanzitutto, come avete visto, non vi ho detto nessun dato tecnico e non vi ho detto né pregi né difetti. Il motivo è che, per quanto riguarda pregi, difetti, dati tecnici, ci sono le recensioni di tutte e tre le tende. Ve le lascio in descrizione se volete approfondire una o tutte e tre le tende. In descrizione trovate tutti i link. Per quanto riguarda i prezzi, sono abbastanza simili. Ultimamente la Grit la si trova in giro sui 190-200 euro. La Rift un po' alla via di mezzo sui 220 euro. Quella che costa di più è la TAR, 230-240 euro. Diciamo che comunque in generale ballano una cinquantina di euro, quindi comunque sono tende abbastanza equiparabili. A questo punto, naturalmente, sta a voi sapere cosa dovete andare a fare, cosa preferite, se preferite una tenda autoportante, doppio telo o no. E ragazzi, al suo punto io vi ho detto tutto quello che sapevo. Fatemi sapere magari voi nei commenti cosa ne pensate e quale tenda deciderete di acquistare. Io ne ho speranza sia stato esauramente esaustivo. Come sempre, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!